A parte una visione di come è questa terra a partire da vari appuntamenti internazionali come l'Expo di Dubai ma in generale come deve essere raccontata per i prossimi anni, è una visione diversa. Noi abbiamo mare, spiagge, colline, montagne e borghi ma abbiamo a differenza di tanti posti che hanno mare, colline, borghi e spiagge abbiamo 100 marcatori identitari distintivi che per tanto tempo non abbiamo messo ben a fuoco nel senso che abbiamo raccontato sulle copertine patinate anche sui siti internet ma c'è da organizzare l'offline cioè quello che accade intorno ad esempio al teoremo di Pitagora, a De Peo che secondo il mito è chi ha costruito da Calabrese il cavallo di Troia Gioacchino da Fiore, San Francesco da Paola, insomma quella marcia in più che questa terra ha che è un marcatore identitario distintivo non sono marcatori generici e questo per tanti anni è sempre stato organizzato con lo sforzo singolo ma se noi immaginiamo, io porto sempre l'esempio di come a Crotone Pitagora tu non lo vedi, non lo tocchi nel senso che può essere organizzato molto meglio per trasferire una consapevolezza intanto interna per cui non a caso insieme agli stakeholder dell'incoming e vi ringrazio, anzi proprio ieri è uscito un bando che sostiene i media, gli editori e la comunicazione calabrese quindi è importante anche la vostra presenza perché c'è da fare un doppio lavoro internamente per parlare ai calabresi io credo che sia la prima volta, così mi hanno detto negli ultimi 40 anni, che è un assessore al turismo in maniera la più completa possibile per cui l'invito è se qualcuno è sfuggito a questo anno di grande ascolto perché in quest'anno il Covid non è soltanto stato un grande sforzo ma anche l'opportunità di sentire tutti e di provare a selezionare i migliori io ho provato a invitare quelli che hanno senso dai wedding planner ai tour operator, all'agenzia di viaggio, operatori poi passeremo in rassegna con tutte le strutture che riguardano perché Diano Castomiese è sempre parlato in Calabria, è un punto forte ma va raccordato con tanti altri racconti partiamo da qui tra l'altro da chi è riuscito a raccontare la storia della Calabria in termini di immagini non soltanto vendendo cibo, la famiglia Barbieri, 50 anni di storia, è proprio il simbolo di quanto su questo tema avere dei marcatori identitari ha un suo significato poi c'è Calabria Terra dei Padri che è un progetto che ha come project manager un calabrese che ritorna da una mano che appunto Lucio Presta riguarda tutti i calabresi che stanno nel mondo e quindi questa forte identità, questa grande organizzazione è l'idea di essere molto competenti cioè di mettere in campo le migliori energie alcune volte la Calabria anche quando si è organizzata è stata per certi versi un po' dozzinale possiamo dircelo così il tentativo è di investire risorse e di essere perfetti per questo, per migliorare i servizi ad esempio ho citato qualche bando, il bando che riqualifica i lidi penso che già settimana prossima avranno le risorse il bando che sta per uscire sull'economia del mare, sulla montagna c'è un racconto nel post-covid di quello che questa terra può giocarsi nei prossimi 5 anni noi intorno allo sviluppo economico, il turismo e l'internazionalizzazione puntiamo molto